Sera Borna ragazzi, benvenuti in questo nuovo video E' appena finita la partita tra Inter e Napoli Terminata il risultato di 1-0 in fronte dell'Inter E ahimè sono molto molto dispiaciuto per questo risultato Perché per quanto in Napoli abbia giocato bene Una buona partita Purtroppo sa sconfitta ed è arrivata E non era nemmeno semplice portare a casa una vittoria Tantomeno un punto Perché l'Inter è nettamente più forte di noi Gioca in casa Quindi c'erano tutti i fattori Che facevano sì che l'Inter vincesse questa partita Ed è così avvenuto, mi dispiace Non dico nemmeno perché il Napoli ha attaccato di più Meritava il pareggio Perché secondo me il discorso di Meritano meno Non ha niente di soggettivo Perché se non sei riuscito a segnare E hai fatto zero gol Non meriti il pareggio Né tanto meno la vittoria Meriti la sconfitta e basta Perché sei stato scarso Non essere stato bravo a creare le occasioni Non polemizziamo Non sindacchiamo sul nulla Sull'insindacabile Non siamo stati bravi Non meritiamo la vittoria L'Inter è riuscito a sfruttare Quell'occasione che gli ha permesso di fare il rigore E ha vinto Basta L'Inter ha meritato la vittoria Io non mi la prendo Cioè me la prendo tanto Certamente per le occasioni sbagliate Ma me la prendo anche per quell'episodio Per quel frangente Per quell'ospensione di partita che ci ha costato la sconfitta Perché fino al settantissimo E Napoli stava tenendo un buon ritmo Stava giocando bene In difesa era solida In attacco qualche volta si mostre ad essere pericolosa Pericoloso sì Maschile Ma da quel momento in poi È arrivata quella scintilla Che ci ha fatto perdere Poi il tentativo Poi comunque dopo il gol dell'Inter Il Napoli è attaccato con più intensità E qualche occasione è arrivata Ma purtroppo Nulla da fare Politano che fa una bella cosa di potenza Andanovic la respinge Per non parlare poi di Come si chiama Di Petagna Che all'ultimo minuto Invece di buttarla sul secondo parola Buttata sul primo Qualche minuto prima Anche di Lorenza ha fatto un medesimo errore Cioè Napoli tra quattro occasioni Gli otte le avute Però sono stati proprio sfortunati Perché abbiamo beccato un Andanovic Che ha più di un anno Che non Che non gioca questo tipo di partite Cioè Andanovic È da un sacco di tempo Che non era il super Andanovic Il super Samir Il miglior portiere della Serie A Era un po' passivo E contro di noi S'attaccato agli portieri Che per quanto è forte Da un anno Non faceva niente Comunque Nel primo tempo È un primo tempo abbastanza monotono Abbastanza noioso Ma nel secondo tempo Invece È una partita un po' più vivace Un neutrale potrebbe anche essere d'accordo con me Quindi che non è nero interesse Nel napoletano Ma Un napoletano Difficilmente direbbe così Perché si incazzerebbe Soltanto per la sconfitta Della sua squadra Il Napoli Fatti le occasioni la avute Soprattutto quattro Invento quelle insegne Che è di Dacco Ma la spinge a Danuic Per non parlare poi Di Di Lorenzo Di Petagna Che invece di buttare sul secondo parola Buttare sul primo E poi Di Politano Altre occasioni Non mi sono Non mi vengono in mente Nel Napoli Poi nel primo tempo Non ci sono stati Grandi acuti Nemmeno l'Inter L'Inter mi sembra Il primo tempo Con Lautaro Martinez Ma non è che ci sono state Così tante occasioni L'Inter non è che Abbia tirato tantissimo Ha fatto premere possesso Però ha vinto perché È riuscito a sfruttare Un rigore a suo favore Che ci può anche stare Forse avrei qualche dubbio Sua posizione di Darmian Però Darmian è stata brava Di anticipare a Spina Che ha fatto fallo Spina ha commesso fallo Perché non è andato Minimamente sul pallone Ma ha solo toccato L'avversario E l'ha struito Perché Darmian Probabilmente Avrebbe segnato Quindi il rigore Ci può anche stare Con chi me la prendo oggi Con due o tre giocatori In particolare Il primo di tutti Penso che avete già capito È Insigne Io dico a te Insigne Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne Ma che cazzo fai? Ma che cazzo combini? Ma che cazzo combini? Tu sei il capitano Tu devi stare vicino All'arbitro In modo pacifico A dire che quello Non è rigore Che stai sbagliando Ma non puoi atteggiarti Chissà 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 quale divinità sei Come se fossi Maradona Come se fossi Ibrahimovic Una divinità qualunque Tu sei un giocatore normale Non sei nulla Con fronte a questi mostri sacri Non devi avere Quella sfacciataggine Quella presunzione Quell'atteggiamento Di andare così Verso l'arbitro Devi portare rispetto E devi essere umile Devi agire come un vero capitano Non puoi lasciare La tua ciurma La tua ciurma Da sola Nel bel mezzo Di una tempesta Non puoi È condannato il Napoli E lo condannerà La prossima partita Perché senza di te Innavi dovrà giocare Che se un gioco è fondamentale Avresti dovuto tenere conto di questo Invece agita impulsivamente Come un idiota Non è che è sbraito Però Insigne È stato forse uno dei peggiori in campo Proprio in quell'episodio L'ha Indubbiamente Sato uno dei peggiori Poi Di Lorenzo Allora Di Lorenzo Fino al settantesimo Stava nemmeno giocando male Perché l'Inter Sulla sinistra Attaccava poco Però Di Lorenzo Ha cominciato a fare Molte cazzate Tutto il gol Che si è mangiato Perché per me Quello è un gol mangiato Ok qualche cross Buro l'ha pure fatto Eh C'è da ammetterlo Però Non puoi Stare solo tu davanti al portiere E tirarlo sul primo palo Dove il portiere era ben piazzato Invece tirato sul secondo Dove avevi Dove c'era più spazio E il portiere Si sarebbe dovuto impegnare Per pararla Cosa che Probabilmente non avrebbe fatto Perché comunque Se avesse tirato In quella posizione L'avrebbe segnato Ma ho notato che Di Lorenzo Era molto spesso lento Goffo Macchinoso Cioè non è più Di Lorenzo Di qualche mese fa Che spingeva in attacco Che andava sul fondo A crossare Un Di Lorenzo Statico Ma proprio statico Mamma mia Cioè Di Lorenzo Nei movimenti Mi ricorda Kolarov Mi ricorda Kolarov Quando è lento Quanto è statico Quando rallenta i tempi di gioco O dopo O ci prendiamo un terzino O giochi con Malquitto e Isai Perché giocare solo Di Lorenzo Ci fa solo danni Perché Di Lorenzo Sta giocando tanto Ma sta calando Nelle prestazioni Nella qualità Nell'efficienza Delle partite Inoltre anche Bacayogo Non mi è piaciuto Bacayogo Poveramente il ritardo Anche lui rallenta I tempi di gioco Ma non tanto nella corsa Ma nel mantenere il pallone Nel possesso Poi Si è fatto sovrastare Tantissime volte Da Ollataro Martinez Da un Due o tre partite Che Bacayogo Bacayogo Sto un po' deludendo Pure lui gioca tanto Però è un gioco fondamentale Perché ti assicura Quella Dinamicità Che pochi hanno Nella nostra squadra Per anni Pure non si è visto proprio Chi è piaciuto Nel Napoli Ovviamente è stato Coulibaly Coulibaly Che ha giocato una buona partita Comunque ha marcato bene Luca Quella Oltaro Mi è piaciuto Demme Poi Ha giocato bene Anche Lozzano Politano Un po' Si è visto Ha fatto delle ottime cose Peccato che Mertens Che si è rotto Le peggiori Le ho appena detti Insigne Di Lorenzo E Bagaglio Probabilmente Anche Metagna Che è letteralmente Sparito A parte un'occasione Che ha avuto nel finale Sparito in tutta la partita Nell'Inter Boh Ha giocato bene Mentre Andanovic Migliore in campo Un po' anche De Frey Ha giocato una signora partita E niente Questo video finisce qua Ci vediamo domenica Contro la Lazio Sperando Di vincere E niente Questo video finisce qua Serà buona ragazzi Grazie